Con Aurelia Ambori abbiamo lavorato veramente in una maniera anche un po' atipica, in un tandem iniziale, profondo, in cui ci scambiavamo delle visioni, delle immagini. Lui a me, io a lui, ovviamente a quelle mie, molto legate letteralmente a Palermo, essendo palermitano doc, ci siamo confrontati. Poi è arrivato il quadro su cui lavoriamo, Il trionfo e la morte, ma il processo è cominciato molto prima, su altre idee, fino ad approcciare a questa idea di un'immagine fissa. E lì, in quel momento, io ho cercato di mettere a disposizione la mia sensibilità compositiva, musicale, anche legata a queste suggestioni mediterranee che mi hanno sempre influenzato. La cosa ha funzionato in maniera fisiologica. A me tocca l'onere gravoso di essere un poco il pittore, il pittore che sta da parte, sta di lato, è l'autore, ma anche il non autore di questo quadro, che, appunto, è un archetipo che è l'archetipo della morte, un archetipo a cui nessuno sfugge e può sfuggire. A me tocca dare fiato, dare vita per tutto lo spettacolo, in quanto quasi attore a latere, proprio di lato. Vengo da una musica come il jazz, la musica etnica, dove ci sono delle melodie, ci sono parti composte, ci sono parti improvvisate che prendono un grandissimo spazio. No, in questo spettacolo io direi che è abbastanza composto. Siamo, direi, se dovessi usare delle percentuali, il 70% della musica è composta, fissata e quella si ripete in maniera, diciamo, identica. E poi ci sono delle piccole cellule improvvisazioni che più che altro seguono l'improvvisazione che avviene in danza. Poi chiaramente è tutto creato sulla base delle singole personalità, ma quello è intrinseco. Dunque, la reazione del pubblico sin da quando a metà dello spettacolo hanno cominciato questo applauso scrosciante, a me è arrivata una sensazione di grande calore. Non so, e ho chiesto poi con grande curiosità, anche un certo piacere, ho chiesto agli addetti ai lavori del Biondo quale fosse il parametro di reazione del pubblico del Biondo. In astratto, in generale, per la mia esperienza concertistica, è stata una reazione eccezionale. Poi mi hanno confermato le persone che lavorano qui da anni che sicuramente siamo ai vertici delle reazioni positive. Quindi, diciamo, non per autoincensarsi, però siamo sicuramente contenti. Io ho collaborato in maniera più o meno indiretta, ma non tanto indiretta in certe cose di Palermo-Palermo ai tempi, ero un ragazzo. Ho partecipato attivamente perché io e la mia attuale moglie eravamo i padroni del cane, quindi eravamo sotto contratto in Palermo-Palermo. Conservo ancora gelosamente questo contratto a nome del cane. Per me è un'esperienza bellissima. Lo spettacolo si rifà a Palermo-Palermo in maniera assolutamente non letterale. Se si cerca questo, siamo su una strada, diciamo sicuramente sbagliata, ma al file, al soggetto palermitano non ci si scappa, al soggetto letterale Palermo-Palermo. Quindi i due spettacoli si uniscono in un luogo ben preciso, cioè hanno una grande connessione che non è quella letterale, ma è il luogo che è Palermo. Palermo è una città che comunica, ahimè, forse purtroppo sempre la stessa cosa, un certo caos, una certa inquietitudine, è una città, io devo dire, è sempre una città scorpionesca, usando i termini astrologici, è anche una certa diffidenza, ma tutto questo è il lato oscuro, perché poi invece comunica tolleranza, comunica spesso amore, comunica spesso... Ecco, queste istanze erano presenti in Palermo-Palermo e Pina Bausch e lo ritornano alla grande in Bori. Quindi in questo senso potrebbe essere inteso come una continuazione, non dal punto di vista estetico, dal punto di vista dei significati direi assolutamente sì. Grazie a tutti.